La mamma di una volta era più severa, però se ne sbatteva un po' di più. Basta con questa storia che le mamme facevano bene da mangiare. La mia faceva così male da mangiare che sotto a casa avevamo un ristorante cinese che ha messo fuori una scritta, la puzza non viene da qua. Mia mamma era cattiva, una bastarda maledetta. Quando si nervosiva anche per niente mi rincorreva per il tavolo, non so se vi ricordava. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, bastardo maledetto, vieni qui, vieni qui. Se non riusciva a prendermi, dopo mezz'ora piangeva. La mamma ti giura, falsa, che se tu vieni qui non ti fa niente. Alcune scene di Rocky Balboa le hanno girate a casa mia.